Benvenuti nel poster dal titolo Settimo censimento dell'agricoltura Innovazioni metodologiche e tecnologiche di raccolta dati Siamo Loretana De Ghetano Claudia Fabbi e Vincenzo Triolo Lavoriamo alla direzione centrale della raccolta dati dell'Istat. Negli ultimi tre anni ci siamo occupati della progettazione, organizzazione e conduzione della raccolta dati per il settimo censimento dell'agricoltura, introducendo soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative Il nostro poster ha lo scopo di illustrare l'applicazione di un disegno multitecnica adottato per la prima volta in una rilevazione sensuaria con l'obiettivo di fornire spunti per ottimizzare la sinergia tra le tecniche di data collection al fine di migliorare la qualità dei dati raccolti e ridurre il disturbo statistico sui rispondenti Lascio la parola a Vincenzo che ci illustrerà la prima sezione del poster sulle indagini pilota Grazie Loredana Le indagini sperimentali sono un importante presupposto per la realizzazione di indagini a tecnica mista perché permettono la messa a fuoco degli obiettivi, la valutazione delle performance di ciascuna tecnica di rilevazione e la valutazione dell'investimento necessario in termini di risorse tecnologiche economiche ed umane ciò è stato particolarmente rilevante nell'ambito del settimo censimento generale dell'agricoltura vista la complessità e la interconnessione di tutte le componenti previste dal disegno di indagine in particolare sono state progettate organizzate e condotte le tre indagini pilota la CAUI la CATI nelle componenti outbound e inbound e la CAPI realizzata attraverso il coinvolgimento dei centri di assistenza agricola le tre indagini sperimentali realizzate tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 hanno avuto diverse tempistiche modalità operative non interconnesse tra loro e campioni diversificati in ciascuno dei riquadri gialli nella parte alta del spot troverete le principali caratteristiche la realizzazione delle tre indagini pilota ha permesso di raccogliere importanti elementi valutativi particolarmente rilevanti per la progettazione del disegno multitecnica da impiegare per il censimento ad esempio sono stati valutati e analizzati l'affidabilità e la tenuta dei sistemi informatici e delle tecniche computer assisted l'affidabilità dei contatti degli indirizzi e dei numeri di telefono presenti nei registri di provenienza della lista della lista censuaria la propensione all'utilizzo della tecnica CAUI da parte delle aziende agricole e i tassi di partecipazione per ciascuna tecnica ora passo la parola a Claudia che ci illustrerà la parte centrale del poster relativa al disegno adottato nel censimento grazie Vincenzo veniamo ora al centro del poster qui abbiamo descritto il disegno di raccolta dati effettivamente utilizzato per il censimento tutte e tre le tecniche oggetto di test durante la pilota avevano mostrato risultati positivi quindi si è optato per mantenerle tutte e per la prima volta assicurare la compresenza di tutte e tre dall'inizio alla fine della rilevazione l'architettura principale è stata fornita da SGI il sistema di gestione delle indagini dell'ISTAT ad SGI si sono integrati i due applicativi per il monitoraggio ed il questionario informatizzato rispettivamente MicroStrategy e Panda questa struttura integrata ha supportato direttamente l'acquisizione dei dati per le tecniche caui e capi raffigurate nel riquadro in basso le tecniche telefoniche inbound e outbound sono state attestate invece sui sistemi informatici della società esterna a giudicataria della gara di appalto per le interviste Cati li vediamo in basso a destra con la cornice blu i rispondenti potevano in ogni momento rivolgersi al numero verde per prenotare un'intervista telefonica sia parlando con un operatore che inviando un sms o un messaggio whatsapp verso una sim dedicata innovazione questa mai adottata prima del censimento dell'agricoltura di conseguenza era necessario progettare tra i due sistemi informatici un canale di comunicazione che permettesse di mantenere aggiornati quotidianamente esiti e stati della compilazione l'integrazione anche se asincrona ha costituito una novità assoluta per le rilevazioni multitecniche svolte dall'istat ed è riuscita con successo a garantire che tutti gli operatori della rete capi e cati pur non incontrandosi mai fossero consapevoli del lavoro reciproco e dello stato di avanzamento della compilazione dei questionari a prescindere dalle tecniche impiegate per il contatto con i rispondenti il riquadro in rosso completa la visione d'insieme mostrando gli ulteriori attori della rete dedicati all'assistenza ai rispondenti sia per fornire aiuto nella compilazione via web che informazioni di carattere generale sul censimento passo la parola ora a Lorellana per le conclusioni grazie grazie claudia passiamo alla terza e ultima parte del poster abbiamo ritenuto opportuno utilizzare la sduot analysis per valutare i punti di forza le debolezze le opportunità e le minacce relativi all'applicazione del disegno della multitecnica i principali elementi di riflessione sono stati riportati all'interno dei riquadri colorati si tratta di una prima analisi che merita sicuramente ulteriori approfondimenti nell'ottica di sviluppare una raccolta dati in modalità multitecnica sincrona da applicare per il censimento permanente dell'agricoltura e per le future rilevazioni statistiche grazie per l'attenzione grazie 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 a tutti.